allora ragazzi questa notizia salatina mi ha sconvolto totalmente perché mi alzo e leggo che cutrone praticamente il nuovo giocatore wolverenton ha già lasciato gli stati uniti cutrone per andare appunto in inghilterra per 18 milioni più di bonus cioè abbiamo abbiamo dato via sempre si andrà tutto bene nelle viste mediche abbiamo dato via un giocatore come patrick cutrone che sarebbe stato il futuro del milan in questo momento è lui il milan perché cutrone entrava anche se non faceva niente risollevava lo stadio cioè faceva divertire il pubblico lo entusiasmava cioè proprio era un giocatore che al milan serviva per me serviva tutta la vita poi io non dico che tu non lo puoi vendere perché comunque si sa che il milan deve far cassa e se il milan non vuole puntare su cutrone lo deve vendere ma non me lo vendere a 18 milioni più 2 di bonus 20 milioni 18 milioni quello che c'è c'è cutrone 21 anni può solamente crescere ha fatto 27 gol in due anni di serie a in due in due anni appunto in tutta la stagione in due anni di stagione tra europa league che in europa league ha fatto 10 gol in serie a ne ha fatti 13 sempre in due anni e in coppa italia quattro totale 27 gol tu me lo vedi cioè l'abbiamo veramente svenduto perché per me cutrone non si poteva muovere per meno di 30 milioni di euro una cifra maggiore 30 milioni di euro cioè abbiamo tanti esempi ragazzi noi compramo bertolacci qualche anno fa 20 milioni di euro pinamonti quest'anno è stato comprato all'algera per 18 milioni di euro e pinamonti ha fatto le ultime 15 partite buone al frosinone cioè non è che poi per me tutto questo granché è un ottimo giocatore ma ha fatto 10 12 partite massimo buono al frosinone perché prima manco giocava manco giocava io non lo so joe felix 120 milioni per una stagione buona in portogallo e noi diamo via cutrone per due stagioni che ha fatto forse questa stagione non è che ha fatto tanto bene ma quella scorsa ragazzi cutrone tu non lo potevi assolutamente dar via così non lo potevi dar via così che poi io capisco la società perché sicuramente giampaolo avrà detto cutrone non rientrano in piani è troppo una punta ferma è troppo simile a piontech quindi detto cedetemelo e per me la società l'ha ceduto così perché ragazzi le offerte per cutrone arrivano solamente dalla dalla premier league e il mercato inglese chiude l'otto agosto praticamente ragazzi il milan aveva paura che appunto aspettando aspettando il wolverhamton si sarebbe appunto non interessata più a cutrone e il milan sarebbe messo con cutrone che non era nemmeno più al centro del progetto quindi per me questa è stata una delle motivazioni da parte la società di accettare questi 18 milioni di euro però ragazzi è stata una scelta sbagliata perché cutrone l'ho pretenuto se lo avessi dovuto vendere l'avrei venduto a tanto l'avrei venduto a tanto perché ragazzi un giocatore che ti può solamente crescere ti può solamente crescere cioè cutrone è l'anima del milan e il milan in questo momento patrick cutrone adesso se ne andrà in inghilterra titolo definitivo che devo sentire io manco a dire un prestito con diritto di riscatto manca a dire un prestito con diritto di riscatto che c'è una minima possibilità che l'anno prossimo torni da noi ma nemmeno quella che poi per me cutrone andrà lì ma non sarà nemmeno tanto felice perché sappiamo tutti che cutrone ha realizzato il suo sogno giocare a san siro a volte anche da idolare e per me a cutrone appunto disinfrage un sogno nonostante l'ho avverato ma solamente per due anni per me la cosa bella di cutrone sarebbe stato vederlo per tutti per tutta la sua carriera con la mano del milan ma ormai ragazzi le bandiere non si vedono più le bandiere di una volta non non esistono più mi dispiace troppo ragazzi non è uno sfogo perché comunque rispetto le scelte della società perché poi ragazzi se sì che oggi dicono male alla società sono gli stessi che hanno voluto fortemente maldini come direttore sportivo e sappiamo tutti che mattini ha detto io resto se appunto mi fate fare il mercato che voglio io allora è dato questo ruolo adesso tutti a criticare la società io perciò non credo la società perché io volevo maldini e se questa è stata una scelta di maldini ci sarà un motivo certo per me si doveva vendere a molto di più cutrone però dobbiamo vedere ragazzi mi dispiace che lo abbiamo svenduto così tanto però io fiducia speriamo un po vediamo i prossimi nuovi colpi si parla di leao si parla appunto sempre di anche il correa e niente mi dispiace però non so veramente che dire non so veramente che dire perché per me cutrone poteva essere la bandiera futura del milan invece no se ne va il volvere un po spero che non superi le visite medica io spero che cutrone non superi le visite medica e torni al milan spero vivamente in questo niente ragazzi fatemi sapere lo sacco questi commenti mi piace un bel essi accale c'è un passivo beh forza mia